Oggi ci troviamo alla GAM di Torino, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Inaugura la mostra AIEZ, l'Officina del Pittore, una grande esposizione con oltre 100 opere dedicata al grande artista veneziano. Piantore della bellezza, dell'amore, dei valori risolgimentali, nella sua lunga vita, AIEZ è stato protagonista di Cambiamenti Epocali. La mostra è aperta al pubblico dal 17 ottobre 2023 fino al 1 aprile 2024. Per vederla con noi, cliccate nel link in descrizione, seguiteci sul nostro canale YouTube per vedere questo reportage e anche tutti gli altri reportage di Canale Arte. Vi aspettiamo!